Il presidente turco Erdogan ha ricevuto i membri della comunità ebraica turca e russa. La Turchia sta cercando di uscire dall'isolamento internazionale, migliorando i suoi rapporti con altri paesi come l'Egitto, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita e appunto Israele. L'atteggiamento sincero e costruttivo di Israele nel contesto degli sforzi di pace contribuirà senza dubbio al processo di normalizzazione dei nostri rapporti, ha detto Erdogan. La relazione tra i due paesi si è raffreddata negli ultimi anni per le prese di posizione del presidente turco nei confronti dell'atteggiamento di Israele verso i palestinesi.